ciao a tutti da jgr studios il nostro canale dedicato alle lezioni recensioni e tutorial sull'audio recording non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati oggi ci occupiamo di Vienna Ensemble Pro 6 un software di hosting che permette al suo interno il caricamento di instruments e anche di plug-in audio da utilizzare in remoto attraverso un sistema di connessione da utilizzare in via remota quindi attraverso un sistema di connessione esterno alla do proprio per evitare di appesantire ulteriormente il processing all'interno della do questo tipo di hosting può essere utilizzato sia in maniera locale quindi all'interno dello stesso computer come stiamo facendo in questo momento un sistema che svincola la do dall'utilizzo di certi plug-in quindi il processore potrà utilizzarli esternamente alla do oppure attraverso sempre un sistema remoto ma di connessione esterna via ethernet con uno o più computer esterni che si occuperanno quindi di poter calcolare esternamente al nostro computer il processing di questi plug-in è il sistema che viene utilizzato dai compositori moderni come Hans Zimmer, Danny Elfman o Junkie XL ma vediamo brevemente come configurare le macchine innanzitutto ho disegnato un setup abbastanza semplice ma è quello che effettivamente sto utilizzando in questo momento abbiamo quindi un Mac Pro dove è stato caricato Studio One e Vienna Ensemble Pro come utilizzo locale della piattaforma un MacBook esterno su cui è stato caricato il Vienna Ensemble Pro per poter essere utilizzato in remoto entrambe le macchine devono avere in questo caso una chiavetta e licensor su cui verranno scaricate le licenze acquistate dal sito della Vienna vi ricordo che l'acquisto di questo sistema costa 285 euro in questo momento e dà diritto a tre licenze quindi con la possibilità di caricare fino a tre istanze di Vienna Ensemble Pro su tre computer contemporaneamente potremmo quindi o utilizzare due computer con due sistemi uno uno remoto via Ethernet ed uno remoto locale oppure il nostro sistema host con tre computer esterni collegati via remoto Ethernet il collegamento è semplice quindi sia i computer che contengono l'host e quindi la DO direttamente collegato al router che sarà poi collegato ad internet e il computer slave in questo caso il MacBook Pro con appunto la chiavetta e licensor è il Vienna Ensemble Pro caricato al suo interno collegato anche esso allo stesso router sempre via Ethernet vi ricordo che è fondamentale spegnere la connessione wireless del computer slave perché Vienna Ensemble Pro riconosce anche la connessione via Wi-Fi ma è ovviamente più lenta rispetto a quella Ethernet una volta configurato il sistema in questo modo procediamo al setup delle piattaforme lanciamo il nostro Vienna Ensemble Pro sul computer locale e lo lanceremo anche sul computer remoto in questo caso sto utilizzando screen sharing della Apple per visualizzare il Mac Pro lanciamo anche da qui Ensemble Pro server e carichiamo al suo interno una istanza che chiameremo Vienna Ensemble Pro MacBook andiamo sulla nostra configurazione locale facciamo la stessa cosa faremo una versione Vienna Ensemble Pro local ora torniamo su Studio One e creiamo una nuova song chiameremo per comodità Vienna Ensemble Pro Test per prima cosa dovremo configurare la DO in maniera che possa caricare al suo interno il sistema di routing una volta aperto Studio One dovremo caricare all'interno del Rack Instrument il Vienna Ensemble Pro in questo momento non è collegata a nessuno dei due host quindi cliccando su Connect vedremo come sarà in grado di visualizzare sia l'istanza di Vienna Ensemble Pro locale local host sia quella che ho caricato sul Macbook Pro facciamo una prova con quella locale collega avremo subito una connessione con la versione locale che assumerà la colorazione possiamo anche rinominarla che assumerà la colorazione che noi abbiamo dato all'interno dell'istanza potremmo colorare ora la nuova istanza cliccando qui sotto e aprendone un'altra collegandola al Macbook Pro e cambiando colore in questo caso siamo sul Macbook Pro e gli diamo un colore diverso facciamola rossa in maniera da poter distinguere velocemente i due tipi di connessione rimettiamo l'host sotto e lavoriamo sul host interno del computer anche trovandoci all'interno della stessa macchina potremo caricare diversi instrument facendo in modo che non pesino sul processing della Do in questo modo potremo utilizzare una sezione MIDI di instruments esterna e lavorare più sull'audio all'interno di Studio One vediamo come funziona apriamo la nostra host interna locale e analizziamo allargando l'interfaccia iniziamo a caricare gli strumenti al suo interno carichiamo per esempio i nostri additive keys in questo caso il pianoforte carichiamone più di uno facciamoci una istanza di VN Ensemble Pro con i pianoforti che noi potremmo utilizzare all'interno di un arrangiamento aggiungiamone un altro e un altro ancora configuriamoli il primo sarà il piano acustico secondo potremo utilizzare il piano upright e nella terza istanza utilizzeremo quello elettrico come vediamo lo stress di processing all'interno di Studio One è infinitesimale come configurazione di Studio One sto utilizzando il sistema Zero Low Latency che abbiamo già visto in un altro tutorial con un settaggio di questo tipo 512 samples 48 kHz mentre il processing è settato con dropout protection massimo e processing position 64 bit in questo caso la latenza di roundtrip è 228 millisecondi mentre quella che noi avvertiremo mentre suoniamo è di circa 30 ma anche meno perché il sistema mi permette di non sentire la latenza mentre suona la tastiera MIDI il secondo passo è quello di creare le nostre tracce MIDI quindi aggiungiamo tre tracce in questo caso le chiameremo per comodità VN Ensemble Pro local piano assegniamole al primo VN Ensemble Pro che è quello locale per comodità possiamo anche rinominarlo ora cliccando sul pulsante monitor ascolteremo tutti i pianoforti insieme andiamo a configurare le uscite sia del VN Ensemble Pro in questo caso quelle che vediamo qua sotto quindi apriamo tutti i canali del VN Ensemble Pro a disposizione 16 ad esempio li vedremo qui sotto poi li rinomineremo e torniamo sul nostro localhost cliccando su master bus avremo la possibilità di configurare velocemente i nostri pianoforti quindi additive keys canale 1 canale 2 canale 3 configuriamo le uscite separate quindi piano elettrico uscita 1 2 e sul mixer chiameremo appunto additive keys electric torniamo su VN Ensemble Pro uscita 3 e 4 che chiameremo appunto additive keys upright il piano acustico lo portiamo su 5 e 6 e qui configureremo additive keys modern ora muovendoci e assegnando ovviamente canali midi 2 e 3 possiamo come per gli instruments standard suonare configuriamo in questo modo gli instruments quindi midi 1 instruments plug-in midi 1 midi 2 instruments plug-in midi 1 perché stiamo ricevendo dall'istanza che abbiamo qui local canale 3 midi 1 in questo modo possiamo ascoltare i nostri instruments separatamente piano elettrico upright pianoforte acustico la comodità è vedere che ovviamente studio one nella sua performance non sta utilizzando quasi nulla del peso del plug-in in questo caso sto invece caricando in una sezione remota i 3 pianoforti aggiungiamone un quarto di un altro tipo andiamo per esempio a caricarci piano tech 6 eccolo qui stesso tipo di configurazione quindi andremo su midi 4 localhost 1 aggiungiamo una traccia midi richiameremo in questo caso web local piano tech assegniamolo sempre al web local canale 4 assegniamo l'uscita ricordiamoci in questo caso sta uscendo su master bus andiamo su 7 8 che ancora non abbiamo utilizzato e nel mixer lo vedremo sull'uscita 7 8 che chiameremo appunto piano tech andiamo avanti ed aggiungiamo sessioni anche di altri instrument nella nostra istanza di vienna ensemble aggiungiamo ora una sessione di contact che potremo configurare anche come multi out come già molti sapranno contact è possibile configurare le librerie che vengono caricate all'interno con degli out separati rispetto alla sua stessa istanza per fare questo scendiamo in basso ed aggiungiamo gli output al nostro contact 8 stereo facendo in modo che vengano assegnati automaticamente alle prossime uscite dell'istanza di contact ecco che ora sono collegati appunto stereo 1 2 3 4 alle uscite 1 2 3 4 5 6 sempre di contact per attivare queste uscite all'interno di vienna ensemble il nostro contact avrà al suo fianco un pulsante più che aprirà le sue uscite separate stesso discorso dovremmo farlo all'interno sempre di web local aggiungendo uscite che poi utilizzeremo e indirizzeremo attraverso contact è un procedimento tedioso all'inizio ma una volta configurato tutto il sistema verrà automaticamente ricaricato sia dalla song sia da vienna ensemble pro torniamo su contact e iniziamo ad aggiungere alcune librerie ad esempio sempre di pianoforte carichiamo giant ed aggiungiamo qualche libreria ad esempio di albion gli archi i braslow woodwinds avendo cura di assegnare ogni uscita stereo di ogni singolo plugin ad un'uscita separata di contact quindi stereo 2, stereo 3, stereo 4 le uscite midi già sono configurate per cui possiamo procedere all'assegnazione delle uscite vere e proprie per cui abbiamo visto che la prima uscita sarà contact quindi la prima uscita abbiamo visto sarà contact giant la seconda contact strings brass woodwinds assegniamo anche a queste uscite separate quindi abbiamo già utilizzato fino alla 7 e la 8 proseguiamo con 9 10 11 12 13 14 15 e 16 aggiungiamo le tracce midi che ci occorrono questa volta 4 chiameremo local contact e assegneremo sempre web local canale 5 questa volta istanza 1 canale 5 torniamo sull'istanza di contact e assegniamo gli stessi parametri midi quindi uscita 5 connessione midi 6 proseguendo con la numerazione che abbiamo utilizzato già per gli altri pianoforti ascoltiamo il piano giant tutto chiameremo giant per cui avremo poi contact strings contact brass contact woodwinds canale midi 6 assegniamo sempre web quando invece dovremo utilizzare appunto contact con più uscite separate è il caso di utilizzare midi channel all quindi la do assegnerà il midi direttamente e l'istanza sempre la prima che è la localhost che stiamo utilizzando accendiamo gli archi canale 7 canale 8 per praticità ricordiamoci sempre di riscrivere nomi anche nell'arrangiamento per cui ricordiamoci che il primo punto è additive keys electric piano, additive keys upright, additive keys modern dopo di che avremo pianotech, contact giant, contact strings, contact brass e contact woodwinds ora il nostro computer è configurato per essere connesso al localhost di vienna ensemble pro su cui abbiamo caricato già uno due tre già 13 strumenti midi notiamo come non c'è nessun tipo di carico all'interno della cpu di studio one possiamo fare un ulteriore passo e collegare un secondo host al computer esterno che in questo caso è il mio macbook pro apriamo anche lì i nuovi canali midi e iniziamo la configurazione del computer remoto torniamo sul nostro screen sharing dove abbiamo visto il nostro computer esterno collegato creiamo delle nuove tracce midi che chiameremo web macbook qui caricheremo altre istanze ad esempio di contact facciamo quattro tracce sempre colleghiamole direttamente al web macbook pro assegniamo i canali midi ora questi canali sono collegati al vienna ensemble pro che si trova sul computer esterno stesso procedimento di prima creiamo i nuovi instruments all'interno di questa configurazione procediamo con contact e all'interno del nuovo contact innanzitutto creiamo le uscite audio come abbiamo già visto precedentemente mostriamo gli out scendiamo creiamone di nuovi in questo caso ne facciamo quattro ma potremo ovviamente farne anche di più come abbiamo visto precedentemente facciamo sempre una connessione dal prossimo in questo modo avremo le uscite separate anche qui stesso discorso di prima torniamo su master bus apriamo le uscite di contact che abbiamo configurato e assegniamo ovviamente il midi port che in questo caso è uno perché fa sempre riferimento ad un'istanza la prima di vienna ensemble pro che si trova sul macbook ma assegniamo le uscite separate al nostro contact per cui 3 4 5 6 7 8 9 10 andiamo a configurarlo e carichiamo al nostro interno alcuni strumenti che non abbiamo caricato nella sessione locale ad esempio action strikes in questo caso ripartiamo il count dell'assegnazione dei canali midi da uno perché stiamo utilizzando un sistema di connessione remota su un secondo computer carichiamo anche altri instrument mettiamo un evolve mutation midi 2 stereo 2 carichiamo anche qui una sezione di giant la mettiamo su stereo 3 midi 3 e carichiamo un altro preset dopodiché possiamo procedere al caricamento di una delle mie librerie ad esempio stereo 4 midi 4 in questo caso queste nuove librerie sono caricate come vi ricordo su un macbook esterno che state vedendo in remoto assegniamo le tracce midi controlliamo prima le uscite che siano tutte configurate diamogli un nome per comodità quindi abbiamo detto action strikes evolve giant abbiamo detto action strikes evolve giant e il 300c engine torniamo su master bus rename action strikes contact evolve contact giant 2 per comodità per ricordarci che è un altro e il prossimo contact 300c andiamo nelle nostre tracce ed ascoltiamo quindi abbiamo il primo canale assegnato a giant secondo evolve mutation terzo il giant nuovo e poi abbiamo il mio pad sessione remota in questo momento sto utilizzando due vienna ensemble pro uno locale come abbiamo visto uno remoto sul macbook pro ma posso proseguire caricarne ancora di più e continuare ad avere uno stress cpu sulla mia do estremamente basso spero che questa lezione vi sia stata utile vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice e professionale verrete a contatto con le mie tracce affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering continuate a seguirmi su facebook youtube e music off non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto ciao a presto ciao a presto Grazie a tutti.